Sono andato in America per allelarmi perché io sono un tennista e poi sono venuto qui alle Olimpiadi e faccio ovviamente tennis e vincerò una medaglia sicuramente. No, no sì, eh sì dall'America direttamente a Londra, bello. Che facciamo? Spero di far più carto divertire, facciamone un sorriso e spero di musicare per festeggiare queste Olimpiadi e per festeggiare questo altro oro. Olimpiadi e faccio.